Come si fa oggi a non essere democratici? Come si fa? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione è poetica e suggestiva, ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto di voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu delighi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato, che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni e che se lo incontri ti dice giustamente lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo e questi erano Giorgio Gaber e Sandro Luporini sulla democrazia nel 1997. Forse è una traccia che ci può servire stasera. E questo è il professor Alessandro Barbero. Buonasera. Allora, professore, io comincio dalla Treccani. La Treccani dice, democrazia, sostantivo femminile dal greco democrazia, composta di demos, popolo, e crazia, derivazione da kratos, potere dal verbo krateo, il ginnasio è lontano ma mi sembra di sì, che vuol dire dominare. Quindi, sempre la Treccani, è forma di governo in cui il popolo esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi. Infatti si parla di democrazia diretta o plebiscitaria, democrazia indiretta, rappresentativa e parlamentare. L'opposto, che cosa non è democrazia, secondo la Treccani? L'oligarchia, che è il potere di pochi, l'assolutismo, l'autoritarismo, il dispotismo, la dittatura, la tirannia e la tirannide. Insomma, detta così, abbiamo già finito, professore, andiamo, è finita, giusto? È tutto così semplice quando parliamo di democrazia? Quando vi fanno una domanda così è perché la risposta è no, non azzardatevi a rispondere sì e aspettare la prossima domanda, perché effettivamente no, non è tutto così semplice perché in quelle che la Treccani presenta come sfumature, democrazia rappresentativa, democrazia diretta, a me sembra che ci siano in realtà delle differenze tali, che perfino l'idea di usare la stessa parola democrazia per indicare le une e le altre, a me crea qualche problema, perché insomma, dunque dovete sapere che noi ci siamo consultati a lungo su questo tema, stiamo seduti o stiamo in piedi? Vada professore, vada poi in piedi. Quando ti viene alzati pure, mi ha detto Massimo, quindi no, allora, a parte gli scherzi, la democrazia l'hanno inventata i greci, cosa intendevano i greci con democrazia? Immaginate di avere uno che viene da Atene, un vasaio o un marinaio del Pireo e tu gli dici noi duemila anni dopo di voi abbiamo ancora la democrazia, fantastico dice il marinaio del Pireo, e quindi fate come noi, sì sì, anche noi abbiamo la democrazia e quindi eleggiamo delle persone che ne sanno più di noi, che per un certo numero di anni sono delegate a rappresentarci e a prendere le decisioni. Ora badate bene, io non voglio prendere in giro questo sistema, che probabilmente è l'unica forma di democrazia praticabile oggi in attesa che la rete ci permetta di fare altre cose, ma non ci siamo ancora, non voglio prendere in giro questo sistema. Però un ateniese sbarcato in mezzo a noi direbbe e voi questa roba la chiamate democrazia? Perché cos'è la democrazia? È la democrazia che andiamo tutti sulla collina quando bisogna decidere, tutti? Tutti è obbligatorio andarci, tanto che quando avvertono i banditori che c'è la riunione, poi i poliziotti fanno il giro della città con una corda tinta di vernice rossa, la tengono, fanno una specie di corteo e spingono la gente verso la collina dell'assemblea e la corda è tinta di vernice rossa perché poi se uno viene macchiato di rosso, gli atteniesi sono poveri, hanno un solo vestito, se uno viene macchiato di rosso poi paga la multa perché bisogna andarci all'assemblea e io gli dico certo anche noi abbiamo l'obbligo, il voto è un dovere del cittadino, non sta guardando le ultime notizie ma cercando la prossima domanda e ha scritto tutto lì. Quello che sta dicendo mi fa nascere già altre domande. Se vuoi ti lascio, però finiamola con gli atteniesi, gli atteniesi vanno tutti sulla collina e lì c'è uno che sale su e che dice allora ordine del giorno di oggi, la finiamo questa guerra contro Sparta oppure la continuiamo fino alla morte? Il primo oratore sale e spiega perché la guerra contro Sparta bisogna continuarla e i suoi sostenitori battono i piedi, bravo e poi sale un altro e dice no questa guerra contro Sparta è un'idiozia totale, ci porterà alla rovina, bisogna finirla, dopodiché dopo di che si vota, chi vuole la guerra? Noi la vogliamo, contiamo, quanti sono? La maggioranza vuole la guerra contro Sparta e molta gente torna a casa e dice ma che schifo questo sistema, ma perché che schifo questo sistema, ma perché il mio vicino di casa che fa il contadino, che non ha mai letto un libro, che passa il tempo a potare le viti, vota e il suo voto uno vale uno. Io sono un nobile signore, vado in palestra, mio padre ha vinto ai giochi olimpici, allevo cavalli, conosco la musica e io saprei decidere tanto meglio di questi pezzenti che votano all'assemblea e invece i pezzenti votano e siccome sono la maggioranza hanno ragione loro e vincono loro. Questa è la democrazia e l'ostilità verso la democrazia ad Atene. Ora lasciamo stare che oggi in pratica non si può, oggi in pratica non si può, però il sistema che noi abbiamo inventato nei secoli come alternativo dà spazio alla volontà del popolo ma in modo enormemente più indiretto rispetto a quello che facevano gli Atenesi, i quali hanno il copyright, la parola democrazia, l'hanno inventata loro e voleva dire quella cosa lì per loro. Fra le righe di quello che appena detto professore però c'è una parola che mi ha colpito, la parola delega. Noi abbiamo un sistema democratico in cui deleghiamo ai nostri eletti la presenza in Parlamento e quindi come dire le decisioni, quando diciamo Parlamento è democratico noi deleghiamo a qualcuno. Oggi, oggi, in questo 2019, in questi anni 2000, la parola delega profuma di poco democratica. Oggi che basta un clic per votare è come se ci stesse molto stretta. eppure, ci direbbero i costituzionalisti, per arrivare a costruire un meccanismo democratico di delega ci sono voluti secoli. Perché oggi questa parola ci sembra che non, come dire, non corrisponda alla vera volontà popolare? Probabilmente per un... Dunque, notate bene, scusatemi, io devo dirlo, dovevo dirlo prima o poi, lo dico prima, anziché poi. Io sono uno storico. Però qui abbiamo deciso di parlare di qualche cosa che coinvolge il nostro presente e il nostro futuro e non solo il nostro passato. Ora, io, quando io vi dirò qualche cosa su come si facevano le cose in passato, come dire, ci impegno il mio onore, ci metto la mano sul fuoco, mi risulta che era così. Quando parliamo del presente, io ne so come se fosse una chiacchierata al caffè, naturalmente. Ognuno di noi ha le sue idee su questa domanda che tu hai posto, no? Perché la delega. Allora, può essere perché c'è una crescente sfiducia in quelli che deleghiamo? Io non sono sicuro. Perché in realtà, nella democrazia rappresentativa, la sfiducia in quelli che vengono delegati è parte strutturale dell'atteggiamento dell'opinione pubblica, che però si rassegna in mancanza di meglio. Se voi andate a vedere cosa si diceva nell'Ottocento negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, nell'Ottocento, era la prima vera democrazia, col suffragio universale, maschile, ovviamente. Però, accidenti, in Europa non c'era niente del genere. Negli Stati Uniti, la letteratura, i giornalisti, i racconti satirici, le barzellette, tutti erano d'accordo sul fatto che i nostri politicanti sono una massa di ignoranti corrotti. Sono dei falliti che nella vita non hanno trovato nient'altro da fare. C'è un racconto di Mark Twain che parla di questo, che dice, mi siete mai chiesti cosa vanno a fare gli orologiai che hanno dovuto chiudere bottega, gli idraulici incompetenti? Ecco, il sottinteso era vanno a Washington a fare carriera, politica. Ovviamente è una visione satirica, estrema, ma l'idea che i nostri rappresentanti sono disastrosi, incompetenti, corrotti, fa parte della democrazia rappresentativa e la democrazia rappresentativa può resistere anche a questo. Io non so se può resistere nell'Italia di oggi, però parlavo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese che oggi forse è in modo un po' più velato, ma in passato ha avuto una storia di corruzione politica terrificante, di collusioni sistematiche, di sindaci e di presidenti, con tutte le mafie di sindacati, con tutte le mafie possibili e immaginabili. Eppure sono una robusta democrazia, sono un paese criticabile da mille punti di vista, gli Stati Uniti terribile da mille punti di vista, ma anche grandioso da tanti e sono una democrazia, per come la intendiamo noi oggi, sono stati sempre corrotti e marci fino al midollo. Quindi lei sta dicendo che è, come dire, è obbligatorio delegare, perché siamo società complesse e non possiamo paragonarci alle decisioni che lei ha descritto prima nella Grecia antica evidentemente. Quindi la delega in qualche modo, come dire, non è antidemocrazia, anche i mali della democrazia, fanno parte della democrazia, quindi. Sì, dunque sulla delega c'è un equivoco, secondo me, e cioè noi deleghiamo. E a me verrebbe da dire, noi deleghiamo per il semplice e banale fatto che non possiamo più ritrovarci tutti oggi pomeriggio sulla collina. Siamo 50 milioni, viviamo in un paese di 300.000 chilometri quadrati, quindi non si può fare, quindi deleghiamo. Però c'è anche un'altra tradizione storicamente molto radicata che confluisce in questa idea della delega, ed è l'idea, deleghiamo perché noi non ne sappiamo niente, ma deleghiamo i migliori. In questo senso la democrazia rappresentativa è davvero un punto di incontro di due cose che i greci consideravano due cose opposte. I greci, vabbè i greci avevano tre modelli, perché c'era anche l'uomo forte di cui poi forse vorremmo parlare, il tiranno, ma al di là di quello i due modelli fondamentali erano democrazia governa il popolo, uno vale uno, oppure oligarchia governano pochi, perché? Ma perché i pochi sono migliori, perché i pochi hanno letto, studiato, passano il tempo a discutere, conoscono le arti e la musica, fanno sport e vanno in palestra, lo ripeto perché per i greci era una cosa fondamentale, noi due saremmo stai con qui. E dopodiché i migliori sono i migliori e quindi prenderanno decisioni più sagge. Nella discussione dei greci è questo il punto fondamentale, nei libelli antidemocratici che proliferano anche ad Atene, la Costituzione degli Ateniesi, che Luciano Canfora pensa di aver dimostrato che è stato scritto da Senofonte, anche se è anonimo. Ed è una descrizione satirica della Costituzione democratica di Atene, dove in sostanza il tema di fondo è la democrazia vuol dire che una manica di incompetenti, ignoranti e analfabeti prende le decisioni peggiori possibili. E per questo dicono i greci che la democrazia fa schifo, alcuni greci eh, poi invece il popolo dice no, mi dispiace, la democrazia è la cosa migliore che c'è, avrà i suoi limiti. Invece gli avversari della democrazia dicono fa schifo perché le decisioni dovrebbero prendere quelli bravi, quelli competenti. Allora noi deleghiamo le decisioni a una casta, dice qualcuno, a un'elite, a un gruppo ristretto di politici di professione. Perché non si può fare diversamente? E il loro compito è di rappresentarci, come in Italia in parte è stato in passato. Uno che votava comunista nel 1960 votava un partito il cui scopo era di difendere non ridicolmente l'interesse collettivo della nazione, figuriamoci, erano tempi un po' più seri da questo punto di vista. Uno votava comunista perché era un operaio e voleva che qualcuno rappresentasse gli interessi e i bisogni degli operai. E a quel punto non importa che sia più bravo il politico, non è che lo votiamo perché lui ne sa di più, lo votiamo perché bisogna per forza passare attraverso questa strettoia per motivi pratici. Però nella nostra democrazia rappresentativa alleggia anche, correggetemi se sbaglio, ma mi sembra che alleggi anche l'idea che invece no, questi affidiamo a loro la politica perché loro sono quelli competenti che sanno e allora quando scopri che invece i cosiddetti competenti tante volte non lo sono, ti vengono i dubbi naturalmente. Allora, cominciamo con gli anniversari. Sono esattamente 30 anni dalla caduta del burro di Berlino, 1989, e dalla fine del mondo il viso a metà. Come lo chiamavamo? Dicevamo, da una parte c'è quello libero, cioè democratico, e dall'altra c'è quello totalitario, comunista, o almeno quello dei paesi socialisti, così usavamo queste parole. La democrazia nell'Europa del 2019 significa 25 stati democratici riuniti sotto lo stesso ombrello, un Parlamento unico, una moneta unica. Qui la porto al suo terreno di medievista. si può fare un paragone? A me è venuto in mente il Sacro Romano Impero. Proviamo a prendere la democrazia e mettiamola al posto del cristianesimo, come se questi 25 paesi avessero come collante la democrazia. Si può fare questo paragone o una bestemmia dal punto di vista storiografico? No, per carità, si può fare in questo senso che una società, appunto hai usato la parola collante, collante. Una società ha bisogno di un collante, di qualche cosa che dia il senso alle persone di appartenere a una collettività. E questo è più importante che non, come dire, la geografia, i confini, perché diciamo se stiamo parlando di Carlo Magno è perché Carlo Magno è in effetti un antenato dell'Europa come la conosciamo noi oggi. Perché? Per un motivo concreto, è dimostrabile. Il Sacro Romano Impero non è l'Impero Romano. L'Impero Romano non è un impero europeo. L'Impero Romano è un impero che si estende su tre continenti, l'Europa, l'Asia, l'Africa, che confina con il Reno e col Danubio, ma confina anche con il Tigri e le Eufrate, con il deserto arabico, con il deserto del Sahara. È un impero dove la nozione di Europa non ha alcun interesse, alcuna importanza. E anzi, rispetto alla nostra idea di Europa, è un impero decisamente spostato verso sud e verso est. Per un antico romano, supponi un funzionario che viene mandato a governare una provincia, o un centurione che viene trasferito da un reggimento all'altro. Per un antico romano essere mandato in Siria o in Tunisia voleva dire andare nel cuore del suo mondo e della sua civiltà. Essere mandato sul Reno voleva dire essere spedito in un posto da incubo al limite estremo del mondo abitabile, ecco. Non parliamo della Britannia che nemmeno era, ecco, tanto che la Britannia è l'unico posto da cui i romani se ne vanno prima ancora che arrivino le invasioni barbariche, perché tanto stare in un posto del genere, ecco. Allora, a quel punto, a quel punto capite, per l'Impero Romano non c'entra con la nozione di Europa. La nozione di Europa per loro vuol dire, sì, è una roba che fanno i geografi. I geografi dicono queste cose e per il resto non interessa niente a nessuno. Invece l'Impero di Carlo Magno è un impero europeo. L'Impero di Carlo Magno è il frutto delle invasioni barbariche che si sono mangiate un solo pezzo dell'Impero Romano, la parte europea. Quindi noi guardiamo quel momento e diciamo, beh, quando Carlo Magno fa una nuova moneta che vale da Barcellona ad Hamburgo, a Budapest, a Benevento, ma oltre no, ecco. Quando Carlo Magno vede il Mediterraneo e dice, mamma mia, è pieno di pirati, musulmani, arabi, è un posto pericoloso il Mediterraneo, per noi è un confine. E allora noi, quando Carlo Magno, contrariamente ai suoi predecessori romani, pensa che luoghi come Maastricht o Bruxelles sono il centro del suo mondo e non l'estrema periferia, noi diciamo, beh, comincia a nascere l'Europa come la pensiamo noi. Dopodiché il vero centro della domanda era, la gente perché ci sta dentro? Non ci sta dentro solo per la violenza del potere, la gente. Nessun potere è mai riuscito a tenere insieme un popolo o dei popoli soltanto con la coercizione. Bisogna che la gente possa sentire che appartiene a qualcosa. E nell'Europa di Carlo Magno la gente apparteneva alla cristianità e questa cosa era più importante di quanto non fossero le appartenenze etniche. Poi se uno era longobardo, poteva dire sì voi romani, fate proprio ridere voi romani, noi siamo longobardi. Però, però di fatto la prima identità era quella religiosa. Oggi, oggi quando noi diciamo Europa, appunto, che cosa intendiamo esattamente? Io so una cosa, a me fa sempre vibrare un pochino quando mi capita di trovare una discussione sul paragone fra Europa e Stati Uniti. Online è pieno di queste discussioni, no? Dove in genere anche una minoranza, gli americani stessi, una minoranza degli americani dice sì però in Europa regolamenti, controlli, che noia, qui da noi invece se vuoi fare qualcosa. Ma la grande maggioranza anche degli americani che conoscono un po' l'Europa dicono ma sapete che lì ti curano gratis. Ecco, è che funziona tutto lo stesso. Allora, a me l'idea che l'Europa incarni un modello, non necessariamente di democrazia, capite che qui ci sono delle sfumature, democrazia anche gli americani ce l'hanno in un certo senso, ma un modello di società inclusiva, con delle garanzie per tutti, che nel mondo non esiste praticamente da nessun'altra parte. Vent'anni fa ero più convinto di questa cosa, adesso si sono molto anacquate anche da noi, queste garanzie per tutti, queste spinte ugualitarie e così via. Quello probabilmente, se noi fossimo più orgogliosi e se non fosse sotto attacco questo modello in realtà, potrebbe essere una cosa che fa sì che uno dica sì, io sono contento di essere europeo, il che non toglie che mi staranno sempre antipatici francesi. Però pazienza! Tanto mi stanno antipatici anche i, supponiamo, romagnoli, quelli di Carpi, ecco, quindi non importa, uno può essere europeo lo stesso. Tra Carpi e Correggio, è come i polacchi, ce ne sono di analogie possibili. Però, però, allora, entriamo su questo scetticismo, perché lo scetticismo di oggi in molti europei, pensiamo alla Brexit oggi, quello che sta succedendo oggi in Inghilterra dove si vota. Fra l'altro pare che gli ultimi sondaggi dicono che i più scettici in questo momento in Europa, sull'Europa, siamo noi italiani. Gli ultimi sondaggi dicono questo. Ecco, e chiedo, questo inizio di scetticismo, diciamoci la verità, trent'anni fa, quando cadde il muro, se noi rivediamo quelle immagini, pensate agli europei, i tedeschi, ma non solo, l'entusiasmo per quel muro che cadeva, per la possibilità, appunto, democratica di esprimersi anche per un pezzo d'Europa che fino a lì era stato imbavagliato, fu un punto di entusiasmo incredibile. Oggi siamo lontanissimi da tutto questo. Oggi questo scetticismo, le chiedo, non è paragonabile a quello che in qualche modo mise in crisi il Sacro Romano Impero. A parte che c'è una domandina che le faccio proprio a lei storico. Quando è che si è rotto il Sacro Romano Impero? Con la riforma di Lutero? Oppure con la pace di Vesfalia, che è più o meno cento anni dopo, 1648? Oppure con l'impero napoleonico del 1806? Quando è che si rompe veramente il Sacro Romano Impero? Ma questa è una sottodomanda, insomma, come dire, è una curiosità da sussidiario. Ma la domanda... Spondiamo la domanda da sussidiario, se no poi non me la ricordo più. Dai, facciamola fuori subito. Quando si rompe questa unità europea nata sotto Carlo Magno? A parte gli scherzi, eh? E cioè, è chiaro che questi momenti del passato presentano delle analogie con i nostri problemi di oggi molto alla lontana. Analogie che ti possono dare delle idee. A cosa servono le analogie nella storia? A darti delle idee. Non è che dici, siccome è successo questo, succederà magari di nuovo. Non è così semplice. Però se sai che certi temi ci sono già stati... Allora, il tema di un'Europa che era unita e che poi si è spaccata, c'è stato anche in passato. E quell'Europa si è spaccata sul piano religioso e con la riforma... Tente conto che l'Europa è stata, dal punto di vista religioso, unita per più di mille anni. L'Europa occidentale. Gli altri cristiani agli occidentali hanno smesso di preoccuparsene molto presto. Già nel Medioevo il fatto che anche i greci sono cristiani e che poi ci sono dei cristiani in Armenia, in Georgia, e addirittura in Etiopia, di tutto questo non importava niente a nessuno. I cristiani veri siamo noi che preghiamo in latino e il Vangelo lo leggiamo in latino e quelli che pregano in altre lingue ci riserviamo di fidarci, ma noi siamo tanto sicuri. E diamo retta al Papa. E perché certo, perché in Occidente è Roma. Con buona pace di Sant'Ambrogio, che per un po' ci ha provato, però è Roma. Ed è quindi San Pietro il centro della cristianità in Occidente. In altri pezzi del mondo cristiano hai solo l'imbarazzo della scelta, Costantinopoli, Gerusalemme, Alessandria d'Egitto, il cui arcivescovo per secoli si è chiamato il Papa di Alessandria. Ecco, invece in Occidente hai soltanto Roma. Hai un'unica fede religiosa, un'unica versione dei Vangeli, un'unica liturgia, grazie a Carlo Magno, che si è fatto mandare i libri da Roma e ha dato ordine a tutti di dire messa come si diceva a Roma. No, ecco. Quindi l'Occidente in realtà si è costruito una sua identità molto presto. E questa identità è andata avanti per secoli. Fino a quel giorno in cui il dottor Lutero è salito alla porta della chiesa di Wittenberg con un foglio, un martello, un chiodo, e ha affisso alla porta della chiesa una lista di proposizioni, di affermazioni, che lui si impegnava a discutere in pubblico con chiunque volesse contestarle. Lutero era una pratica medievale, normale, il duello oratorio fra professori universitari. Era una pratica che da secoli si faceva nell'università, Lutero era un professore universitario, si faceva nell'università europee, i loro fratelli facevano i tornei, quelli che invece facevano i chierici, gli intellettuali, facevano i tornei di parole. Io difendo questa e questa tesi, domani pomeriggio in piazza, chi vuole venga e discutiamo. Sono queste le tesi di Lutero, però le tesi di Lutero accendono un incendio che divora mezza Europa. L'Europa si scanna con una ferocia mai vista prima. Poi fanno la pace di Westfalia, non muore lì l'impero, anzi, rinasce. Perché la pace di Westfalia, 1648, lezioncina di storia, dopo la guerra dei trent'anni, ultima spaventosa guerra di religione, la pace di Westfalia è una pace fatta sulla base del principio. Vabbè, senti, facciamo che se un re vuole essere protestante, anche i suoi sudditi saranno protestanti, e se un re vuole essere cattolico, anche i suoi sudditi saranno cattolici, e che tuttavia ci riconosciamo comunque come interlocutori legittimi. Quello è il punto. Perché fino a un momento prima, se il Papa parlava di Elisabetta d'Inghilterra, che nel nostro mondo dominato dalla cultura anglosassone, Elisabetta prima, no? Un'icona. Se il Papa parlava di Elisabetta, diciamo, quell'eretica, sostenitrice di eretici, speriamo che qualcuno la ammazzi presto. E invece, dopo la pace di Westfalia, i paesi europei decidono che fra loro, i vari paesi europei, si riconoscono tutti come interlocutori legittimi, pazienza se uno è cattolico e l'altro è protestante. Ci vorrà poi quell'altro grande sconvolgimento, che è la rivoluzione francese e Napoleone, per mettere fine davvero. Napoleone mette fine. Quindi è lì che si ferma tutto. Eh sì, perché Napoleone si trova in un mondo dove c'è già un imperatore, il quale dice, il mio impero dura da mille anni, sono il successore di Carlo Magno. Ora, Napoleone, caso vuole, che anche lui vuole essere il successore di Carlo Magno. Tant'è vero che quando si fa incoronare in Notre Dame, Napoleone, 1804, Napoleone, primo console della Repubblica Francese, decide di diventare imperatore della Repubblica Francese. Geniale, la Repubblica Francese continua a esistere, eh? Però con un imperatore. A questo punto abbiamo un imperatore. Come si fa a incoronare un imperatore? Quando è stata l'ultima volta? Andiamo a vedere Carlo Magno. Napoleone si fa fare la corona di Carlo Magno, la spada di Carlo Magno, poi entra nei dettagli. Carlo Magno l'ha incoronato a Roma il Papa. E Carlo Magno era in ginocchio e il Papa gli ha messo la corona in testa. Qui Napoleone, che ha un senso politico molto sviluppato, intuisce che bisogna cambiare la sceneggiatura. E quindi l'incoronazione la facciamo a Parigi. Va bene il mantello, va bene tutto il resto, ma prima niente Roma. Niente Roma, non è che mi disturbo io andare a Roma, si disturba il Papa a venire a Parigi. Il Papa ci vuole, però la corona me la metto in testa. Il Papa rimane seduto in trono e benedice. Allora, Napoleone a questo punto scopre che c'è un altro imperatore, quello dell'isacro romano impero, e decide che due sono troppo. Può continuare a chiamarsi imperatore anche l'altro, ma che si chiami imperatore d'Austria, d'ora in poi, in modo che sia chiaro che, come dire, quella dimensione universale, che fin dai tempi di Roma è insita nell'idea di impero, perché impero vuol dire quello. Non è che imperatore è un altro modo di dire un re qualunque, no, un re qualunque è il re di un popolo, l'imperatore è il re del mondo. Ed il re del mondo ce ne può essere uno solo, dice Napoleone. Quindi la risposta era questa. Vediamo la domanda importante. Allora, no, ma allora, io la porto al presente, usando questo paragone. Lo scetticismo che sembra prendere, gli italiani abbiamo visto per i sondaggi, ma gli inglesi, come stiamo vedendo in questi giorni, ma sappiamo di tanti altri popoli europei in cui questo scetticismo anti-europeo si va diffondendo. Essendo noi nazioni democratiche, è questo che potrebbe mettere fine all'Europa democratica come l'abbiamo costruita e conosciuta in questi anni? Sì, anche perché l'Europa, io non sono sicuro che l'Europa sia democratica come i singoli stati che ne fanno parte. E provo a spiegarmi. La democratica poi, no, non è questione di... Sono tanti discorsi paralleli. La democrazia vuol dire tutti votano, d'accordo? Ma prima della democrazia c'è stato il liberalismo. E il liberalismo, che funziona, a seconda delle zone d'Europa, dal 600 fino al 900, il liberalismo vuol dire non tutti votano perché i poveri, gli analfabeti, quelli che pagano poche tasse, scegliete la voce che vi piace di più, quelli non li facciamo votare, votano solo le persone per bene. Ma al di là di questo, però, il liberalismo, che è stata la vera forza che poi ha creato le democrazie, il liberalismo vuol dire in sostanza una cosa sola. Chi governa deve rispondere a qualcuno e non al re che dice di essere stato messo lì da Dio, ma a un organismo che in un modo o nell'altro rappresenta il paese. Questa idea non è un'idea nuova. Nel basso medioevo era così. Nel basso medioevo, nel 300 o nel 400, un re di Francia o un re d'Inghilterra non poteva fare tutto quello che voleva. Soprattutto non poteva agire di sua iniziativa nell'unico campo della politica a cui veramente la gente si appassionava, le tasse. Nel campo delle tasse un re medievale, se voleva mettere una nuova tassa, doveva convocare un'assemblea in cui fossero presenti i rappresentanti del paese. L'idea non era la nostra, tutti votano. I rappresentanti del paese sono i baroni, i signori che governano la campagna e che sono presenti anche a nome dei loro contadini, i quali non vengono. Il paese sono il suo clero, i suoi vescovi, gli abati dei monasteri. E poi il paese sono le città, i mercanti, i comuni. Tutti questi, quando il re vuole dei soldi, deve convocarli. gli chiamano in vari modi, in Francia gli chiamano gli stati generali. Mi dice niente questa espressione? Ecco, in Inghilterra sono più moderni, lo chiamano il Parlamento. D'accordo? Dopodiché un re medievale senza il permesso di questi rappresentanti, non dico del popolo, ma del paese, non può mettere un soldo di tasse. Poi nell'età moderna i re si liberano da questa cosa, la monarchia assoluta. Cosa vuol dire la monarchia assoluta? Vuol dire semplicemente che il re si sente così forte che impone una nuova tassa senza disturbarsi a convocare un'assemblea. Non gli va bene dappertutto. In Inghilterra a inizio 600, quando il re Carlo I si mette in testa di governare il paese senza radunare più il Parlamento, e siccome il Parlamento convocato in quel momento non è d'accordo e il re lo scioglie e il Parlamento gli dice tu non ci puoi sciogliere perché noi rappresentiamo il paese non tu e il re ha ruolo a soldati per sciogliere il Parlamento e il Parlamento ha ruolo a soldati per difendersi dal re guerra civile inglese sapete tutti come va a finire vince il Parlamento arresta il re lo mette sotto processo per alto tradimento e gli taglia la testa perché il re non è titolare del potere il paese è titolare del potere in altri paesi d'Europa funziona invece Luigi XIV ci riesce il re sole ci riesce non convoca più gli stati generali per 150 anni la monarchia francese viene governata senza che il sovrano debba chiedere il permesso a nessuno mette le tasse come vuole risultato finale non c'è più un soldo un bilancio un buco di bilancio terrificante cosa facciamo cosa facciamo cosa facciamo convochiamo gli stati generali 1789 il seguito lo conoscete allora da quel momento la monarchia non è più assoluta la gente i liberali i professori e i giornalisti gli intellettuali i borghesi i medici gli avvocati vogliono vivere in un paese dove c'è una costituzione e la costituzione vuol dire eleggiamo un parlamento il governo risponde al parlamento su queste cose c'è una confusione enorme oggi anche nel nostro paese il governo il parlamento se uno va a chiedere la maggior parte della gente non sa bene distinguere ma storicamente la differenza è chiarissima il governo prende le decisioni e chi lo nomina il governo il presidente della repubblica una volta era il re adesso non è un dettaglio da niente è ovvio il presidente della repubblica cioè l'equivalente del re nomina il governo il fatto che siamo che viviamo in un'età liberale si vede dal fatto che il governo nominato dal re o dal presidente deve avere l'approvazione del parlamento eletto dal popolo il parlamento serve a quello quando il parlamento non vota la fiducia il governo cade ok ora io come molti di noi non ho le idee chiarissime su come funziona l'Europa ma non mi sembra che funzioni così non mi sembra che tutti i giorni la commissione europea o chi per lei prende le decisioni tutti i giorni debba andare in parlamento col rischio di cadere e se ne deve fare una nuova a me non sembra che funzioni così e se funziona così riesce a non farlo vedere molto bene e quindi la gente secondo me questo lo percepisce però da 40 anni noi stiamo votando direttamente questo parlamento europeo tutti gli europei lo stanno votando da tanti anni mandiamo rappresentanti dal 1979 ma il parlamento può far cadere il governo te lo chiedo perché siccome io ormai ho confessato che non ho le idee chiare in proposito volevo vedere se Massimo lo sa no ma non può non può ecco vedi che non può non ha questo potere se non può non serve a niente però il dibattito europeo di questi anni ma del dibattito non frega niente a nessuno il parlamento si chiama così perché si chiacchiera va bene ma il parlamento l'unico senso che nella storia europea hanno i parlamenti e che il governo non può fare niente senza l'approvazione del parlamento e se il parlamento vuole lo manda a casa io non so perché poi lo so sono il primo a sapere che la gente queste cose non le sente e non le sa però la sensazione che il governo europeo non è un governo soggetto al nostro voto e che se noi decidiamo che non ci piace cade ma assomiglia di più alla corte di Vienna che all'inizio dell'ottocento decideva e nel Lombardo Veneto si eseguiva una decisione presa in una lontana capitale straniera senza poterci far niente quella sensazione lì secondo me inconsciamente ce l'abbiamo non voglio ampliare la faccenda però è interessante il fatto che sono almeno due volte che un leader italiano porta a casa dei grandi risultati alle europee e tutto questo influenza però il nostro governo è il contrario diciamo si sta rovesciando questa dimensione però diciamo per riassumere forse sono stato già abbastanza chiaro non voglio ripetermi ma sapete come a volte uno ha l'impressione in buona sostanza io percepisco in me la sensazione che le direttive europee piovono senza che uno ci possa far niente sostanzialmente e che i meccanismi per dire io non sarei stato d'accordo con quello sì allora potevo votare quel partito che in effetti sono troppo troppo lontani troppo molli questi collegamenti la sensazione prevalente è la direttiva europea è un potere imperscrutabile sconosciuto che ordina delle cose sarà sbagliata ma siccome nel nostro mondo le sensazioni sono fondamentali anche la temperatura che conta è quella percepita e non quella reale quella sensazione lì c'è allora un altro anniversario e qui la questione come dire si fa anche un pochino più più drammatica proprio oggi sono esattamente 50 anni da Piazza Fontana quella strage è stata definita soprattutto per un per esempio per una generazione come la mia come quella della fine dell'innocenza ha dato origine a una stagione democratica difficile fatta di conquiste modernissime ma anche di contrasti durissimi basta pensare alle foglie avventure terroristiche in cui una parte di questo percorso è finito qui le voglio chiedere una cosa però guardando alla storia noi e ce lo ricordiamo poco siamo una democrazia nata dal CLN cioè dal Comitato di Liberazione Nazionale dall'occupazione tedesca del 43-45 una democrazia fatta di legittimazione reciproca fra antifascisti che pure restavano avversari riducibili tanto per estremizzare pensate che la nostra Costituente e la Costituzione sono state fatte da stalinisti insieme ai papisti sto estremizzando quelli che seguivano Togliatti e quelli che seguivano Pio XII sicuramente gente che dal punto di vista ideologico aveva pochissimo da spartire eppure insieme hanno disegnato le regole comuni del nostro gioco democratico appunto voglio chiedere ma è stato quello 50 anni fa quel che è accaduto 50 anni fa che ha messo in crisi questo modello di democrazia prima ha citato una parola importante quello del reciproco legittimarsi quei nemici degli anni 40 dei primi anni 50 della guerra fredda si legittimavano l'un l'altro da diversi che erano mi chiedo se 50 anni fa quella strage in qualche modo non è stato l'inizio della crisi di questo modello cioè di diversi che si legittimano nel paese detto così direi sicuramente ora naturalmente io lo devo ripetere voi mi capite e mi compatite io sono un medievista però queste cose le viviamo da cittadini tutti quanti e quindi ci ragioniamo su da cittadini qual è il punto secondo me ma no è una banalità secondo tutti noi non è che secondo me piazza fontana o altre stragi la ferita aperta non è il fatto che qualche nemico della democrazia o nostalgico del regime fascista in un colpo di coda estremo decide di ammazzare della gente quella poteva essere una cosa che non ci si aspettava e che invece è successa però insomma erano ancora vivi quelli che avevano fatto la resistenza che di morti ne avevano visti tanti io credo che la tragedia per l'Italia delle stragi sia la scoperta che quelle stragi comportavano delle complicità delle coperture dei no ecco perché un conto è se lo Stato in tutti i suoi apparati è comunque lo Stato antifascista dove poi ovviamente i papalini cercheranno di tenere alla larga gli stalinisti è d'accordo però fra noi siamo ancora quelli del CLN se invece qualcuno di noi in segreto protegge i fascisti e allora salta il patto e sì e questo è quello che è successo perché poi allora secondo me la risposta del paese è stata molto forte cioè a me sembra che allora non c'è stata quella sensazione che io ho un po' adesso che l'Italia è un paese per metà fascista che lo è sempre rimasto che in certi momenti aveva meno occasione di dirlo si fidava meno a dirlo era anche meno invogliata a dirlo adesso la congiuntura è cambiata in quel momento a me non sembra che fosse così in quel momento la sensazione vabbè del 69 era un bambino di 10 anni figurati però attraverso tutti gli anni del terrorismo la sensazione era di una certa compattezza del paese per cui minoranze frange frange deviate il dramma è che le frange fossero dentro il potere e dentro lo stato ma però però appunto il paese secondo me non dava quell'impressione di un paese spaccato fra chi è antifascista e quindi automaticamente oggi tra l'altro è anche stalinista comunista il peggio del peggio secondo me ecco e invece chi è ancora fascista in fondo al cuore sono discorsi delicati chiaramente io parlo di impressioni però sono impressioni legate anche al fatto di conoscere la gente e di conoscere le famiglie e di conoscere la mia famiglia io ho molto l'impressione che l'Italia nel 43 45 si sia davvero spaccata in questo senso è stata davvero una guerra civile secondo me quella la prendo un po' alla larga abbiate pazienza quando è uscito il libro di Claudio Pavoni sulla resistenza una guerra civile negli anni 90 qualcuno da sinistra ha storto qualcuno ha storto un po' il naso come una guerra civile è stata una guerra di liberazione contro lo straniero contro l'oppressore in realtà poi andando a vedere durante la resistenza tutti parlavano di guerra civile era un'espressione assolutamente in uso negli anni 40 c'era cioè la consapevolezza che era una guerra che spaccava l'Italia non era solo la guerra contro l'invasore straniero poi la guerra contro l'invasore straniero era la cosa più facile da rendere popolare o almeno così si credeva ci si era illusi che una canzone come Bella Ciao in cui si parla di italiani che si svegliano trovano il paese invaso da stranieri e decidono di resistere dovesse mettere tutti d'accordo invece incredibilmente oggi questa canzone che parla di italiani che vedendo il paese invaso da stranieri si alzano in piedi a resistere viene criticata da quelli che vogliono essere il partito del tricolore dell'Italia eccetera è una roba inconcepibile incredibile questa dopodiché però la verità è che appunto all'epoca la resistenza a me sembra di poter dire che è stata anche guerra civile in un paese dove c'era una marea di gente che se ne fregava della politica e non stava da una parte né dall'altra e c'era tanta gente e la maggior parte di quelli consapevoli dei giovani migliori stavano da quella parte decisi a rischiare la vita pur di abbattere il regime e far vincere la guerra alle forze democratiche e però c'era anche una consistente parte del paese che invece stava dall'altra parte e a me sembra che però ripeto magari mi sbaglio giudico da quel poco che posso sapere io vedo la mia famiglia vedo a me sembra che ancora oggi quello che le nostre famiglie pensavano la parte da cui stavano schierate nel 43 45 condizioni abbia continuato a condizionare le cose che si dicono in casa per cui ci sono le famiglie per cui i partigiani sono degli eroi da riverire e le famiglie per cui i partigiani erano quelli che hanno rubato il vitello al nonno erano dei poco di buono e così via e il paese a me sembra che sia ancora così e però magari per tanto tempo quelli che pensavano che in fondo i partigiani erano dei poco di buono e che comunque non hanno avuto nessuna importanza per la soluzione della guerra la guerra l'ambiente agli alleati i partigiani non hanno avuto nessuna influenza io in questi giorni ho letto il libro del generale von Sanger und Eterlin comandante del 14esimo Panzerkorps sul fronte di Cassino il quale racconta come appena ripiegati da Cassino verso l'Appennino i tedeschi cominciano a essere tormentati dalle bande della resistenza che bloccano le strade fermano i convogli impediscono di mandare le truppe a riposarsi nelle città per cui questi partigiani sono un incubo e questo lo racconta un generale Oberst della Wehrmacht dopodiché invece a me per tanto tempo quando ero ragazzino in famiglia sentivo di sì i partigiani per carità però inutile potevano starsene a casa no? ecco ma magari non si arrivava a dire e in fondo il regime fascista non era poi così male invece a me sembra che oggi si sia fatto un passo in là no? quelli che hanno sempre sentito dire in famiglia che in fondo i partigiani era meglio se stavano a casa oggi vengono anche a dire che dopo tutto il regime non era così male e così via no? Allora partendo però da quei giorni in cui il paese appunto ha costruito la sua democrazia è nato un soggetto importante per la democrazia in questo paese i partiti i partiti sono stati sicuramente per molto tempo così come li abbiamo conosciuti nella forma che ha dato vita la Repubblica uno strumento formidabile una scuola mi viene da dire una scuola di democrazia una scuola che era teorica ma insieme pratica era una tecnica di convivenza ha insegnato ad affrontare i problemi ecco sappiamo che i partiti come li abbiamo conosciuti fino a vent'anni fa venticinque anni fa non ci sono praticamente più allora io mi chiedo la conoscenza e la pratica della democrazia oggi visto che siamo assediati da una parte dai populismi e dall'altra da nuovi partiti che si creano attraverso la rete attraverso delle votazioni come i laiche ecco il fatto che oggi democrazia voglia dire questo voglia dire ci troviamo dalle quattro e mezza alle otto e mezza vi iscrivete potete votare schiacciate e poi magari finirete in parlamento perché è accaduto così anche in questo paese in questi ultimi anni ecco dall'altra oggi questo ci sembra il nuovo questo oggi la leggiamo come la nuova pratica democratica e leggiamo invece i partiti come un vecchio arnese che si è autodistrutto in qualche modo attraverso la corruzione eccetera 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 ma allora l'italiano oggi che conoscenza teorico pratica ha della democrazia chi gli insegna a vivere democraticamente io come potete bene immaginare perché ormai avete capito come funziona non è che risponderò alla domanda sull'italiano oggi però un po' di riflessione storica su come si è arrivato a questo e su cosa hanno voluto dire i partiti storicamente questo magari invece possiamo farlo intanto una cosa a margine che a me colpisce nessuno mi pare finora ha detto ho messo in pratica magari detto in teoria sì potremmo fare meno del parlamento perché i cittadini da casa votano loro se qualcuno qualcuno ci ha accennato ma detto sì ma voglio dire noi oggi parliamo del fatto che c'è un partito il quale la cui dirigenza prende le sue decisioni consultando la base online di per sé questa cosa non c'entra niente con l'abolire il parlamento perché non abbiamo più bisogno dei nostri rappresentanti perché votiamo noi la cosa di cui parliamo riguarda il funzionamento di un'associazione privata che è un partito il quale partito prende le sue decisioni in un modo o in un altro da che mondo e mondo esistono partiti con una dirigenza e a me sembra difficile dire che consultare online gli iscritti al partito è il modo più risibile di rendere aperte le decisioni del partito io ho conoscenza storica di partiti in cui le decisioni venivano prese in modi assai più ristretti e meno trasparenti quindi io terrei separati i due discorsi finché si tratta del funzionamento di un partito allora bisogna vedere è ridicolo far votare gli iscritti online forse sì bisogna che il segretario e tre o quattro suoi collaboratori si chiudano in una stanza piena di fumo ed escano domani mattina con la decisione presa magari è meglio ma non così vistosamente meglio tutto sommato no altro sarebbe decidere che i cittadini il popolo non eleggono più i loro rappresentanti e votano online lì capisco che le due cose sono connesse ma teniamole anche separate dopodiché il partito è una cosa che accompagna la storia della civiltà occidentale da sempre anche se con alti e bassi non ci sono sempre stati i partiti ci sono lunghe fasi nell'Europa di Carlo Maggio non esistevano per esempio però ad Atene sì perché i politici che i loro avversari accusavano di essere populisti perché andavano a caccia del favore del popolo e prendevano provvedimenti come Temistocle prima della battaglia di Salamina che dopo che gli Atenesi vincono con la loro flotta la battaglia di Salamina Temistocle passa alla storia come il preveggente uomo politico che ha fatto costruire la flotta di Triremi di Atene poi uno va a vedere Temistocle ha fatto costruire la flotta di Triremi perché Atene era pieno di disoccupati che sapevano solo remare sulle navi altro non sapevano fare e dare un bel salario statale a 30.000 disoccupati che remeranno sulla flotta da guerra è il modo per farsi eleggere d'accordo analogie col presente non ce ne sono assolutamente nessuna tranne il fatto che i loro avversari li accusavano di essere degli ignobili populisti per l'appunto che andavano a caccia del favore popolare e i loro avversari dicevano anche questi sono dei cialtroni sono dei venditori di fumo il popolo purtroppo è idiota arriva il primo cialtrone che sa parlare bene e il popolo dietro leggete le commedie di Aristofane che sono meravigliose fra l'altro Aristofane che è un grande conservatore non favorevole all'oligarchia però quello che vede lui è che la democrazia è un sistema dove c'è chi prende in giro gli altri e quelli che si fanno prendere in giro e quindi e quindi mette in scena non so più in quale delle sue commedie il vecchio infervorato per la democrazia che non vede l'ora è già aperta l'assemblea devo andare in assemblea e il figlio invece è scettico e gli dice ma papà ma dai ma non e il padre dice ma ci rendi conto noi siamo il popolo e noi governiamo dice sì sì voi governate certo ma sì noi governiamo andiamo lì e i capi presentano l'ordine del giorno e noi votiamo noi votiamo e poi ci pagano la giornata perché dimenticavo di dire che nella democrazia ateniese il cittadino che quel giorno va all'assemblea a votare lo stato gli paga lo stipendio perché se è andato via da bottega e quindi ti paga lo stipendio e il figlio dice al padre ma papà hai fatto due conti facciamo due conti 10.000 cittadini che vanno a votare una volta alla settimana ecco viene fuori questa cifra mille talenti supponiamo lo sai quante sono le entrate dello stato ateniese dice no non lo so il figlio lo sa 100.000 talenti dice tutti gli altri soldi dove vanno a finire si fanno a finire in tasca ai capi del partito siamo alle 410 a vaticristo e questo è quello che Aristofane scettico sulle delizie della democrazia scrive nelle vespe mi pare che siano le vespe queste ecco quindi il partito c'era certo i uomini politici che volevano andare al potere col favore del popolo avevano i loro collaboratori a loro cerchi e mobilitavano le masse dove altro ci sono i partiti a Firenze al tempo di Dante ci sono i partiti ci sono i Guelfi e i Ghibellini e quelli sono partiti davvero io non so perché noi in italiano moderno abbiamo poi cominciato a chiamarli partiti loro li chiamavano parti parte Guelfa se andate a Firenze c'è ancora palazzo di parte Guelfa botteghe oscure è diventato un palazzo di appartamenti credo ma palazzo di parte Guelfa a Firenze si chiama ancora così e per secoli lì dentro c'è stato un organismo che non era un organismo di governo del comune era una associazione privata che però incideva su quel che faceva il comune faceva le liste dice allora hanno eletto questo e questo non è che sono Ghibellini andiamo a vedere c'è la lista dei Ghibellini sì quello lì è nella lista dei Ghibellini adesso spieghiamo che non può far parte del consiglio del capitano del popolo anche qui e poi e poi i partiti ci sono anche dopo ma tutti questi partiti hanno questa caratteristica sono elitari sono gruppi di potere che manovrano delle masse poi nell'ottocento fine ottocento arriva Lenin semplifico un po' ma insomma arriva Lenin e scopre che il partito è l'avanguardia delle masse e quindi rimane sempre il partito come elite però deve avere i milioni di iscritti perché di fatto è lo strumento attraverso cui le masse rivendicano i loro diritti ecco quel partito lì non c'è più parte Guelfa c'è ancora sotto il giglio senza nessuna allusione a Firenze però comunque dopodiché il partito invece come organizzazione di massa con milioni di iscritti i quali pensano che il partito fa i miei interessi in quanto rappresenta la classe sociale a cui io appartengo o l'orientamento religioso ideologico a cui io appartengo quello effettivamente mi pare che non ci sia più ora da un lato non c'è da stracciarsi le vesti perché appunto anche il partito massa è una cosa dell'8900 è tipica di quel mondo lì noi stiamo vivendo in un mondo che sta cambiando chissà da che paio in che direzione andrà breve storia dei partiti nel mondo adesso invece voglio proporle e proporvi un po' di numeri freschi di uscita anche chi ha presentato la serata vi ha accennato allora il censis proprio pochi giorni fa c'è dato un quadro desolante del rapporto oggi fra gli italiani e la politica e quindi fra gli italiani e la democrazia leggo dal rapporto sull'Italia del 2019 il censis dice solo il 19% degli italiani parla frequentemente di politica quando si incontra mi vengono in mente gli ateniesi che lei ci continua a descrivere il 17% degli operai il 23% di chi svoglie mansioni impiegatizie fino al 38% e 35% rispettivamente di manager e direttivi imprenditori e lavoratori autonomi l'estranità politica dei soggetti meno abbienti è un fattore determinato e determinante e determinante di macchine politico-partitiche autoreferenziali e al contempo fragili questo è sempre il censis a parlare così se il 76% degli italiani dichiara di non nutrire fiducia nei partiti politici la quota sale all'89% fra i disoccupati e all'81% fra gli operai sono proprio questi ultimi gruppi sociali a essere anche più scontenti di come funziona la democrazia in Italia gli scontenti sono il 58% degli operai il 58% il 55% dei disoccupati mentre i valori scendono al 34% fra i manager dei quadri e al 42% fra imprenditori e lavoratori autonomi dice il censis che questi sono segnali evidenti dello smottamento del consenso che coinvolge in particolare la parte bassa della scala sociale l'inefficacia della politica ed estraneità da essa aprono la strada attenzione e qui arriviamo a quello che ci interessa di più aprono la strada a disponibilità che si pensavano riposte per sempre nella soffitta della storia stiamo parlando dice il censis di attesa messianica dell'uomo forte che tutto risolve e dice che il 48,2% degli italiani dichiara che ci vorrebbe un uomo forte al potere che non debba preoccuparsi di parlamento ed elezioni come sono divisi questi italiani il 60% 67 questo 48,2 è diviso così il 67% degli operai 62% dei soggetti meno istruiti e 56,4% delle persone con i crediti bassi allora tanti numeri ma questo per dire semplicemente che questa Italia del 2019 descritta dal censis è in qualche modo tornata alla domanda dell'uomo forte al potere stanchi ormai di partiti di meccanismi elettorali e di meccanismi democratici questo è il punto allora chiedo allo storico proprio qualcuno sta dicendo anche fra gli storici che siamo messi come fra il 1919 e il 1922 dopo la crisi seguita alla grande guerra fino alla marcia su Roma e sappiamo che la marcia su Roma è quella in cui il fascismo entra al governo della porta principale ecco questo desiderio dell'uomo forte onestamente per lei Barbero ha qualche analogia con l'Italia del 19 e 22 cioè davvero come dice qualcuno la nostra democrazia oggi è a rischio anche qui naturalmente non si può dare una risposta netta si possono fare delle considerazioni sulla base di questi numeri di queste domande intanto io devo dire che io ho la massima fiducia e stima e rispetto per il Censis tuttavia di fronte a questi risultati vengono intanto per avere significato bisognerebbe sapere quali erano queste percentuali vent'anni fa il Censis implica che erano meno drammatiche sarà così certamente però finché non le dai un'altra cosa che noto in queste percentuali è che la sfiducia nella politica è molto meno radicata di quel che avrei detto il 55 per cento degli operai non sono soddisfatti della politica italiana vuol dire che il 45 per cento degli operai sono soddisfatti della politica italiana è fantastico chi di voi è soddisfatto della politica italiana? così detto proprio a brutto muso non lo so non chiedo la levata di mano no no vabbè ma mi verrebbe da chiedermi troppo compromettere che cosa significano davvero questi sondaggi così come quando si tratta dell'uomo forte certo se precisa l'uomo forte che possa fare a meno del parlamento allora ti preoccupi un po' di più però però a me sembra anche normale nell'epoca storica che viviamo che gli operai e i redditi bassi siano i meno affezionati al sistema in cui viviamo cioè io non dico niente di nuovo ormai lo sanno tutti e lo dicono tutti i sociologi gli economisti gli storici che noi viviamo in un'epoca in cui come dire la lotta di classe è finita perché c'è stata e l'hanno vinta i ricchi la lotta di classe è finita attualmente tutto il funzionamento dei paesi occidentali tende a ottimizzare i profitti degli imprenditori e a limare il più possibile le garanzie sociali e la ridistribuzione questa è una cosa perfettamente evidente ed è come dire da talmente l'idea di una valanga storica inevitabile che anche partiti che magari si credono sinceramente di sinistra e che hanno una solida tradizione però sono indifesi di fronte a questo seguono questa corrente nella nostra società non c'è nessuna spinta o poche ci siamo detti che non facciamo nomi non citiamo partiti no non ce lo siamo detti il reddito di cittadinanza è una cosa che va in controtendenza nel senso di dire a quelli che hanno poco bisogna dare qualche cosa ma per il resto non esiste niente del genere l'unico modo dico delle banalità e di nuovo non parlo da storico parlo come chiunque di noi che al caffè con gli amici parla di queste cose l'unico modo che la nostra politica vede ma in tutto l'occidente naturalmente di fare in modo che anche i poveri stiano un po' meno peggio e di dire aiutiamo gli imprenditori che daranno più lavoro ma anche il re sole faceva costruire Versailles e dava lavoro a un sacco di manovali e guadagnava anche consenso e si metteva a posto la coscienza facendolo quindi che la politica la prospettiva il dibattito politico l'orizzonte culturale dell'occidente di oggi sia scoraggiante per chi pensa che bisognerebbe che la politica dovrebbe ridurre le disuguaglianze ecco mi sembra mi sembra inevitabile poi se andiamo a fare il paragone con il con il 1919-20 a me sembra sapete in storia continuamente trovi delle analogie no? e dici tu guarda impero romano le invasioni barbariche noi le immigrazioni ci sono delle analogie le analogie sono divertenti a volte sono anche interessanti perché impari qualcosa ma comportano però anche sempre delle forzature ci sono anche sempre le differenze io non lo so non mi vorrei come dire esporre troppo io non credo che verrà l'uomo forte quindi magari mi sbaglio di grosso gli storici sono famosi per non saper prevedere il futuro come tutti siamo in buona compagnia peraltro agli economisti eccetera ce ne erano tanti anche nel 1919 che dicevano così appunto sono certo che l'Italia liberale si ripeteva sono certo che non arriverà l'uomo forte no no è possibile però pensiamo alle differenze nel 1919 primo c'è appena stata una grandiosa rivoluzione in un grande paese europeo che ha abbattuto un impero secolare rovesciato la società come un calzino e instaurato un sistema che getta nel terrore più abietto le intere classi dirigenti e gran parte della popolazione di tutto il resto del mondo d'accordo Lenin è al palazzo d'inverno secondo a me pare che questa cosa qua c'è la Cina comunista che ci minaccia la Cina ci minaccia ma non perché comunista mi sembra poi il mondo è appena uscito da una guerra terrificante in cui ci sono stati milioni 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 di morti in cui quasi tutti i maschi europei hanno imparato a uccidere hanno imparato a usare le armi hanno imparato a rischiare la pelle e hanno imparato che la vita umana non vale assolutamente niente e che però invece combattere disperatamente fino alla morte per la giusta causa è una cosa assolutamente indispensabile e che non importa se abbiamo avuto 50.000 morti ma abbiamo preso Gorizia e Gorizia vale 50.000 morti italiani vi sembra che siamo in un clima di quel genere lì a me non mi sembra inoltre è un mondo in cui milioni 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 di uomini erano in divisa fino a ieri e vogliono ancora essere in divisa si mettono in camicia nera in camicia azzurra in quel che vuoi e marciano inquadrati agli ordini dei loro comandanti perché vedono l'oro ideale nel fatto di far parte di un'organizzazione che li fa marciare inquadrati tutti con la camicia dello stesso colore tutti uguali e pronti a combattere ora anche se sulle camicie qualche ironia la potremmo fare o sulle felpe però non mi sembra anche qui che l'Italia e l'Occidente di oggi siano così a me sembra che la sensibilità collettiva sia lontana le mille miglia il che vorrebbe dire che l'uomo forte che la gente si immagina però non dovrebbe non sarebbe simile agli uomini forti che sono venuti fuori fra le due guerre perché io credo che tutti quelli che hanno risposto al change dicendo e sì l'uomo forte ci vorrebbe se poi però gli dici quindi lei il sabato è pronto a lasciare la casa in montagna o le lezioni di danza di sua figlia per andare al sabato fascista in divisa voglio vedere che cosa ti risponderebbero mi sembra mi sembra che la risposta sia arrivata invece un'emergenza vera però che sta accadendo nel nostro paese ci spinge a fare un po' di ripasso allora a proposito di regole della democrazia c'è una questione poco chiara che è il riemergere della possibilità di pubblica di adesione al fascismo mi spiego allora esiste la dodicesima disposizione transitoria finale della costituzione italiana che usa queste parole per impedire la riorganizzazione del partito nazionale fascista virgolettato della costituzione è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista chiusi virgolette punto poi c'è una legge una legge del 20 giugno 1952 si chiama numero 645 qualcuno la chiama anche legge scelba ed è in materia invece di apologia del fascismo che è una cosa un po' diversa e sanziona riapro le virgolette chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione di un movimento di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzare il disciolto partito fascista e chiunque pubblicamente esalta esponenti principi fatti o metodi del fascismo oppure le sue finalità antidemocratiche allora le chiedo con queste premesse giuridiche che la Repubblica Italiana non ha mai cancellato sono vigenti sto parlando di norme vigenti le chiedo come vede oggi il fatto che stiano riemergendo forze e personalità anche nel dibattito e non solo nel dibattito anche nella pratica politica pubblica di forze nuove come Casa Pound pensiamo agli episodi appena accaduti il professore di Siena antisemita gli insulti alla senatrice Segre tutti pezzi di opinione pubblica che esplicitamente si rifanno al nostro passato antidemocratico quindi noi abbiamo queste regole e riemergono queste realtà che le regole invece dovrebbero impedire com'è che si fa ordine cioè regole fra l'altro che hanno ormai 50 anni di vita almeno 60 anni di vita quindi sono già storia queste regole ma cosa vuole noi viviamo in un paese meraviglioso io io sono italiano e devo confessare che all'idea che da noi in fondo le leggi vabbè dai su non è che poi sempre proprio si devono ecco io provo anche un sottile orgoglio quando mi trovo davanti uno svedese pensare che io vivo in un paese dove in fondo vabbè la legge dice quello però poi dai ecco d'accordo ecco dopodiché questo è proprio un caso di quel genere che però fa un po' impressione ben inteso io credo che non sia un problema solo di oggi oggi c'è di nuovo un momento di virulenza però l'esistenza del movimento sociale guidato da Giorgio Almirante era un'offesa pubblica al divieto di ricostituzione del partito fascista perché allora non si capisce cosa vuol dire basta non chiamarlo fascista ecco e quando eravamo ragazzi noi le piazze periodicamente si riempivano di giovanotti che salutavano col braccio alzato quindi una minoranza tipo Casa Pound di estremisti consapevoli fascisti che sanno cosa vuol dire io penso che ci sia sempre stata e la legge italiana che gli dovrebbe proibire di parlare in pubblico non è mai stata minimamente applicata cosa devo dire però in effetti abbastanza sconvolgente poi uno può anche discutere uno può anche chiedersi se sia giusto che ci siano leggi che proibiscono di dire delle cose uno potrebbe anche da me verrebbe anche da dire ma no è meglio che non ci sia come in America dice quel che vuoi non so ecco non so non so su quello però nel momento in cui la legge c'è è indubbiamente un po' demoralizzante che sia completamente inapplicata e non si capisce bene dove stiano le procure le quali a quanto pare insomma quel che si legge sui giornali aprono fascicoli d'indagine qualunque cosa accada al mondo c'è un attentato in Afghanistan contro soldati italiani e si legge che una procura italiana ha aperto un fascicolo d'indagine contro i gnoti bontaloro per un attentato avvenuto in Afghanistan ecco e invece per queste cose sotto i nostri occhi nessuno fa niente ma io non sono un giurista quindi ci saranno delle giustificazioni per cui la magistratura non persegue queste cose dopodiché però appunto come dire in guerra civile quando te lo trovi di fronte gli spari e lo dico così io non ci sono mai stato non ho mai dovuto provarci però da storico so che c'è chi ci si è trovato non c'è la guerra civile e allora anche se uno arriva e mi dice guarda io sono fascista secondo me andava bene il fascismo mi va bene un sistema in cui c'è un gruppetto al potere il popolo obbedisce e basta si marcia tutti uniti quello è quello io voglio se uno oggi mi dice io voglio io sono di Casa Pound e voglio questo io gli posso dire io non sono d'accordo neanche un po' però amen a me fa più specie il fatto che secondo me oggi è diventato di moda dire il fascismo il regime Mussolini non solo da parte di giovani estremisti di Casa Pound ma da politici che stanno in Parlamento ecco a me io vorrei vedere se qualcuno chiedesse a queste persone a questi la russa o Meloni o chi per loro ma dunque dunque lei vorrebbe che adesso in Italia un solo partito politico fosse ammesso e tutti gli altri sciolti certo e lei vorrebbe che oggi nella nostra Italia di oggi l'unico partito al potere avesse una milizia di bastonatori che va in giro per le strade e bastona quelli che non sono d'accordo che non fanno il saluto lei vuole questo? io non so forse mi illudo io mi illudo sempre sulla natura umana ma penso che perfino l'ex ministro la russa di fronte a questo direbbe ma no beh veramente non so mi sbaglio faccio anche un'emozione d'ordine come si diceva una volta lei ha visto che ora è ultima domanda ultima domanda e beh ma non è appassionante facciamo un applauso a professione staremmo qui ad ascoltarla fino a domattina allora vediamo le cose una cosa positiva prima lei in pochi secondi ci ha fatto la storia la storia di come si sono formati i partiti in Europa è stato molto affascinante in questo adesso le chiedo di fare una cosa simile partendo da una notizia positiva di questi giorni in Italia da ieri per la prima volta una donna il giudice Marta Cartabi è diventata la prima donna italiana a presiedere la corte costituzionale un organo di garanzia a cui è demandato il compito di giudicare la legittimità degli atti dello Stato e delle regioni quindi un organo molto importante per il nostro paese per la prima volta a dirigere è una donna allora è il segno di un cammino qui mi piacerebbe farla tornare ai tempi di Carlo Magno e fare velocemente da Carlo Magno a oggi da Carlo Magno a Marta Cartabia la figura della donna in questo nostro occidente partendo da quel che è accaduto ieri come dire insomma è una pagina di cronaca quella di questa donna che che diventerà il capo del il presidente della corte costituzionale o è una pagina di storia per la nostra democrazia un'altra domandina da niente voi avete tempo vero ecco perché se vuole cominciare anche dai greci va bellissimo presso i greci le donne stavano a casa e se uscivano portavano il velo questo è bene che i greci da cui descendiamo tutti e che hanno inventato la democrazia le donne stavano a casa e se arrivavano amici del marito si chiudevano nella loro camera e se per caso si facevano vedere avevano il velo in testa su questo nella militarista di tutoriale sparta pare che le donne invece facessero ginnastica nuda in pubblico e che avessero un ruolo assai importante in famiglia ma ad Atene la democratica Atene ma al di là dello scherzo noi noi veniamo da un passato in cui tutte le società che noi conosciamo hanno dato per scontato che i ruoli sono diversi che gli uomini fanno certe cose e che le donne ne fanno altre questa cosa era molto più radicata e capillare di quello che noi potremmo pensare nel senso che certi aspetti sono ovvi gli uomini fanno la guerra e le donne fanno i bambini va bene gli uomini fanno politica e le donne stanno a casa a cucinare ma era più di così nella Firenze di Dante ci torno perché me ne sto occupando da un po' di tempo della biografia di Dante nella Firenze di Dante per esempio una fra le mille regole che tutti davano per scontate c'è un funerale se c'è un funerale il morto in casa arrivano gli amici i vicini i parenti le donne possono entrare in casa e partecipare con la famiglia al pianto gli uomini stanno fuori perché boh ma è così nessuno si sognerebbe di fare diversamente quando muore il padre di Beatrice Dante va a casa e non può entrare a vedere Beatrice che è lì che piange suo padre morto e lui è fuori con gli altri uomini le donne entrano a piangere e lui si mette a pensare che un giorno anche Beatrice morirà e gli viene da piangere e le donne che tornano da dentro casa fuori e lo vedono che piange gli dicono ma cosa hai lascia piangere noi d'accordo totale separazione dei ruoli la totale separazione dei ruoli in teoria non vuol dire superiori e inferiori in teoria semplicemente cose diverse da fare in pratica gli uomini l'hanno sempre interpretata come le cose importanti le facciamo noi e loro fanno il resto quindi quindi al centro delle rivendicazioni delle donne nella nostra società contemporanea che nasce con la rivoluzione francese in pratica le prime donne che seria prima ce ne sono casi di donne che riflettono su questo e anche nel medioevo e che dicono boh ma perché chi l'ha detto ma un movimento largo diffuso che alla fine crea un cambiamento sociale nasce solo a fine settecento poi nell'ottocento il cambiamento va nella direzione di dire noi donne possiamo fare esattamente le stesse cose che fate voi ora al di là del fatto che è il caso di ricordare che noi appunto siamo la prima società nella storia umana che ha questa idea e che prova a fare questo cioè non dobbiamo darlo per scontato è un salto in avanti pazzesco la cultura umana serve è sempre servita per come dire far fare un passo avanti alla società umana no? non fare le cose che ti sembrano naturali tipo spaccare la testa a uno che ti sta antipatico no non gli spacchi la testa perché vivi in una vita civile in una comunità civile d'accordo e allora il fatto che la nostra civiltà abbia avuto questa idea che è dannoso separare le vite degli uomini e delle donne che ci si perde enormemente che si crea infelicità e che quindi tutti devono poter fare le stesse cose uomini e donne è un fenomeno storico straordinario e comincia la parte più delicata di questa riflessione che poi io ne so ben poco ma come tutti entro certi limiti e detta come l'ho detto questa cosa ha avuto successo nella nostra società nessuno più discute il fatto che una donna può essere presidente presidente della repubblica presidente del senato magistrato professore universitario generale dell'aviazione e così via d'accordo in linea di massima e salvo alcuni ambiti ma nell'insieme il fatto che anche le donne possono farlo non è più una cosa così una paratia così stagna dopodiché arrivati a questo si scopre che il problema è anche un altro e cioè le donne possono perfettamente diventare rettore di un'università però il 95% dei rettori sono maschi le donne possono diventare ministro ma i quattro quinti dei ministri sono maschi quel che voglio dire è che noi siamo di fronte a un salto ulteriore cioè una volta ammesso che certo che le donne possono fare tutto il senso che fanno gli uomini però dobbiamo capire come mai ancora nella nostra società però di fatto non lo fanno in questo senso a me verrebbe da dire che la prima donna presidente della corte costituzionale è una gran bella cosa però non è una svolta storica perché abbiamo una donna presidente del senato non un grande presidente del senato peraltro e quindi il fatto che poi quando le donne ci arrivano non sono necessariamente meglio degli uomini è un discorso impopolare che non farò adesso ma insomma dopodiché appunto non è più per noi il problema anche una donna abbiamo donne astronauti che le donne possono fare tutto mi pare che sono tutti d'accordo ormai l'altra soglia invece che è tutta ancora da conquistare è che le donne lo facciano effettivamente davvero con la stessa libertà e le stesse chance di arrivare degli uomini su quello invece è un percorso ancora ancora in cui siamo ancora molto indietro mi sembra ecco non so Alessandro Barbero e Massimo Bernardini grazie di averci seguito per chiudere grazie a tutti grazie a tutti uso ancora la parola soddisfazione anche in chiusura insomma primo piano è davvero soddisfatta di avere offerto ai cittadini corrigesi e non solo penso questa serata vi annuncio che il professor Barbero rimarrà con noi anche domani mattina perché abbiamo organizzato per lui un incontro con gli studenti delle scuole superiori con i ragazzi del liceo del Inaudi e del San Tommaso quindi lui parlerà di questi argomenti anche con gli studenti di Corretta approfitto per darvi due notizie che interessano molto a primo piano la prima è che domenica ci sarà la nostra festa annuale per i soci e per tutti i cittadini chi vuole partecipare può venire qui in teatro alle 17 e ci sarà buona musica e faremo qualche risata quindi è una una festa vera e ancora vorrei invitarvi e ricordarvi alla fine di gennaio il 27 in occasione della giornata della memoria organizziamo un altro incontro che credo sarà di alto livello sarà con noi Donciotti e Gad Lerner a voi due ancora grazie 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 all'ingresso troverete i nostri volontari per eventuali abbonamenti alla nostra rivista grazie 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 a tutti.